Che c'entra Montesilvano con il sistema Buzzi? Con questo interrogativo il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto presso la Procura di Pescara con la richiesta di verifica dell'acquisto delle quote della Linda S.p.A. Quote acquistate per un valore di 800.000 euro che dopo soli due anni una perizia del Tribunale ha verificato che quelle quote valevano solo 133.000 euro. Grazie alla soffiata di un cittadino siamo venuti alla conoscenza che Buzzi aveva degli interessi anche dalle nostre parti. Essenzialmente nel 2007 Buzzi, rappresentante del suo consorzio, vendette le quote minoritarie dell'Index.p.A. che è un'azienda mista pubblica privata di Città Sant'Angelo al Considan, cioè al consorzio che racchiudeva i comuni di Montesilvano, Silvia e Città Sant'Angelo. Insomma sembra che il Considan abbia comprato queste quote senza alcuna perizia, senza alcuna stima, essenzialmente con uno spreco di denaro pubblico talmente palese che ci domandiamo perché in tutti questi anni nessuno lo abbia mai denunciato. Nei membri del Considan, nei membri dei vari consigli comunali e ne soprattutto il commissario liquidatore del Considan che ovviamente ha tutte le carte. Noi purtroppo le carte molte non ce le abbiamo, le abbiamo richieste, non le abbiamo purtroppo avute e questo dimostra anche stando fuori spesso da questi enti quanto sia difficile fare davvero trasparenza e fare fiato sul collo su questi enti strumentali e partecipate. Quote acquistate dal consorzio Formula Ambiente rappresentato da Salvatore Buzzi assurto agli oneri della cronaca nazionale per la vicenda Mafia Capitale.